A voi al TG Express. L'Algè presenta lo fascicolo UNESCO. Dose cannone si tornano a bastione all'Algè. Ancorsi 70 carrelli l'uno vuole la denumerazione civica. Domenica lo primo trofeo Giuseppe Freschi. La devita e ultima prova del campionato vente all'Algè. Sigla e leggo l'Algè TG Express. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita umido e accessori. Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Buongiorno e ben trovati. Amo l'Algè TG Express l'appuntamento quotidiano all'informazione di Alguero Channel. L'Algè, amo altra cinque città, è candidata a diventare città creativa UNESCO italiana. L'Ufascicolo è ora, a fase finale a Parigi. Dammà, alla sara dei mosaici del Museo Archeologico, alla sedeu e miglia del Maitì, del Maitì la presentazione del fascicolo ai giornalisti. Da qui, fino a voi, a Sbastionzi Marco Polo, si stanno posizionando due canons originali del secolo di VIII. L'Urricupero nato dell'intuizione di alcune militanze del Partito deus Aldus, è stato proprio dell'assessore comunale al demanio patrimonio bilancio, Gavino Tankis, che sono interessati per trovare i fondi necessari per il ristauro. Le canons sono suppoltate da appositi a fosti di Niena e Rocco. Sono al Maitè stendere monumenti storici e anche ornamenti urbani. Ancorsi, a 70 carrile, le operazioni del nuovo Ulda per la numerazione civica, verifica e sincronizzazione dei dati con l'officio anagráfico, tantissime corrisioni dei errori con la progresso aritmetica e dei numeri dei carrile trasversali che ora tenen anche un nome. Possiamo essere contenti, destinati a 6 ore, l'Ego d'Espresso, a fare l'ultima azione delle procedure. Diamo la linea alla regia. La mozzarella di bufala. Se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Anche abbiamo la sport, vera. Domenico all'Alghello, il primo memoriale Giuseppe Freschi. La devuiti, ultima prova del campionato, 20 dell'Alghello. La partenza è sprevista per misdia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La curiosità di voi, la calciofa è ricca di virtù depurativi e contiene fibra in quantità e rilevanti, abbassare il colesterolo, eliminando gli acidi urizi. E poi ciò che vogliono anche ora per altre cose, siamo a un buon posto, siamo al posto, non siamo a un bel sol, siamo al posto di raggiungere, bello. E ora la previsione del tempo per qualsiasi richiesta di informazione, sagnare o pregunte, vi potremmo contattare alla pagina Facebook di Aiguero Channel. Andiamo a vivere! 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 Grazie a tutti.